Grazie a tutti. Sì, sì, non è stata una partita semplice, lo sapevamo, però l'abbiamo sempre condotta, l'abbiamo sempre quasi giocata esclusivamente nella loro metà campo. È chiaro che finché non sblocchi il risultato comunque rimane una partita difficile. Borgo Sandonino comunque ha dimostrato di essere in un buon momento. Credo che la vittoria sia meritata perché poi potevamo fare altri gol e quindi siamo molto contenti. Ecco, la cosa che ormai quasi non stupisce più di questa Ravenna ed è una cosa che ha spesso ribadito nelle conferenze stampa è il fatto che anche cambiando i titolari o i ragazzi che entrano non cara mai nel livello dell'attenzione, nel livello di gioco della squadra. No, no, assolutamente. Io ho avuto già modo di dirlo. Abbiamo una rosa equilibrata e quindi anche quando abbiamo delle assenze oggi ne avevamo comunque Magnanini, Pavesi, Mancini. Avevamo poi all'ucidialo non in buone condizioni ma siamo una rosa equilibrata e quindi riusciamo sempre a gestire anche le diverse assenze. Approfitto, parlo anche in nome dei ragazzi per dedicare questa vittoria a Mattia Correnti che ha avuto un brutto infortunio in allenamento. Questo ragazzo che era aggregato con noi della Juniores e gliela dedichiamo a lui e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Di solito non parliamo mai dei singoli ma forse oggi è il caso di farlo e sicuramente il val di variare ha un significato speciale, oltre alla bellezza del gesto tecnico. Sì, sì, ha fatto un grandissimo gol, ha fatto un euro-gol. Per lui oggi ho avuto modo di dirlo. È stata una stagione difficile, probabilmente si aspettava molto di più. Ha trovato dei compagni davanti molto forti, ha trovato poco spazio però si è sempre comportato bene. Molto ben voluto dai compagni e oggi sono molto contento per lui e per questo gol che ha fatto. Un'ultima parola sulla classifica. Oggi due punti rosicchiati al Carpi Capolista. Un'ultima giornata da giocare al Benelli con ancora tutto in gioco. Parliamo solo di campo, non di extracampo. Sì, noi in realtà sul campo saremo a pari, a pari punti. Adesso siamo a meno due per quella vicenda della Pistoiese che noi, come ho già avuto modo di dire, è inutile anche che commentiamo perché non possiamo farci niente. Ci giocheremo la nostra partita con l'Imo Lese e loro ce l'hanno in casa con certà, vedremo un po' come andrà. Grazie a tutti.